Sono passati ormai sei anni dall'inchiesta avviata dalla Procura e che ha permesso di scoprire il clamoroso fenomeno dell'assenteismo al comune di Modica. Era il 2010 quando le telecamere piazzate dalla Guardia di Finanza immortalarono diversi dipendenti comunali a entrare ed uscire dal municipio senza timbrare, oppure dipendenti che timbravano più tesserini al posto di colleghi assenti. Insomma, quelli che oggi, dopo i casi di Sanremo, Rossano, Rimini, Avellino e tanti altri comuni italiani, tutti conoscono come i furbetti del cartellino. 106 in tutto i dipendenti di Palazzo San Domenico attualmente sotto processo per truffa aggravata ai danni dello Stato. Un processo iniziato al Tribunale di Modica e poi ricominciato da zero al Tribunale di Ragusa dopo l'accorpamento delle sedi giudiziarie e che sta proseguendo talmente a rilento che ormai da più parti è stato evocato il rischio della prescrizione per gli imputati. Cosa che, oltre a gettare alle ortiche il lavoro investigativo e l'intera inchiesta, getterebbe un'ombra sinistra sul comune di Modica e la sua immagine a livello nazionale, come in parte già avvenuto domenica scorsa durante la trasmissione Mediaset Domenica Live e il cui video sta spopolando sui social. Il programma di Barbara D'Urso infatti ha parlato proprio del caso Modica, nell'ambito dei furbetti del cartellino, mandando in onda il reportage che una troupe del programma ha realizzato in città, del quale vediamo uno stralcio con le incredibili dichiarazioni del sindaco che hanno suscitato la violenta reazione dei giornalisti presenti in studio, Mario Giordano, direttore del Tg4 e Veronica Gentili, del Fatto Quotidiano. C'è un'allarme a Modica, no guardate questo servizio che racconta una cosa assurda, guardate. Qua la Senteria non ci contestano se uno scende al bar e prendersi il caffè. Ma lei non li ha mandati via però? No, non li possiamo mandare via perché obiettivamente c'è un processo in corso. Lei, sindaco, ha nominato tra l'altro il suo caposegretaria uno di questi indagati. Sì, certo, perché io ho fiducia nelle persone. Ma è vero che comunque loro stanno aspettando e si prende tempo perché tanto si arriverà a prescrizione? Ma la prescrizione, guarda, è qualcosa che fa male a tutti, penso. Io me lo sono scelto come... Dimmi, ma tu te lo prenderesti un assenteista come principale collaboratore? Ma una persona normale si prende un assenteista come un'assenteista? Ma il problema... Qui dentro ci sono i termini della cosa, perché c'è sia la minimizzazione, quelli che minimizzano, che dice in fondo, sia i responsabili che si prendono come principale i collaboratori che si è macchiato di una colpa così. Ma è rimasto così perché adesso subentrà la prescrizione e probabilmente non verranno nemmeno condannati. Ma il schema non è allungare la prescrizione, accorciare i processi. Cioè non sono stati nemmeno sospesi dal lavoro. Questa è una delle cose che la riforma mondiale dovrebbe inserire. La sospensione, per cui dopo 48 ore, se non altro, tu sei temporaneamente... E questo è quello che fa? Sei temporaneamente... I tempi della prescrizione intanto si vanno riducendo. Al momento manca un anno e mezzo e se i tempi processuali procederanno con questo ritmo, a malapena si riuscirà ad arrivare alla sentenza di primo grado. Cosa che comunque consentirebbe al Comune, che lo ricordiamo, si è costituito parte civile su iniziativa dell'allora sindaco Antonello Buscema di avviare i conseguenti provvedimenti disciplinari.